Ad Agropoli è morto un uomo di 84 anni, positivo al Covid. Da diversi giorni era ricoverato in ospedale. L'anziano era stato precedentemente ricoverato a Vallo per un malore, poi trasferito nel reparto di malattie infettive del Covid Hospital di Agropoli. Da Palazzo di Città arriva il messaggio del primo cittadino di Agropoli. Il Covid miete un'altra vittima nella nostra comunità. Questa è una di quelle notizie che non vorremmo mai dare, ma è la realtà che da due anni a questa parte purtroppo dobbiamo affrontare. Gaetano era una guida per i suoi familiari e per quanti lo conoscevano. Voglio rivolgere una preghiera per la sua anima e un forte abbraccio alla famiglia da parte mia e dell'intera amministrazione comunale.